Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio pubblicato da poco dall'insegna del Giglio dal titolo La città medievale e la città dei frati a cura di Silvia Beltramo e Gianmario Guidarelli che abbiamo il piacere di avere con noi e ai quali chiediamo subito di raccontarci se davvero la città medievale è la città dei frati. Tanto benvenuti e grazie di aver accettato e a voi la parola. Grazie dell'invito. Ci fa molto piacere questa occasione per presentare il nostro volume che appunto è un volume a molte mani perché raccoglie saggi di diversi colleghi studiosi che appunto si sono voluti interrogare, ci siamo voluti tutti interrogare su questo aspetto del rapporto tra la città e i frati nel periodo medievale e anche nella prima età moderna. In realtà arriviamo appunto con alcuni saggi anche a indagare la parte insomma più legata cronologicamente ai secoli dell'età moderna quindi al cinquecento e al sei settecento soprattutto per l'area del sud del sud Italia. Sicuramente non è un tema nuovo nel senso che la storiografia ha dedicato molti approfondimenti su questo tema, una storiografia consolidata che ha dato saggi di grande interesse, di grande rilevanza e dai quali siamo partiti proprio per interrogarci in una serie di incontri, di seminari che poi sono stati raccolti, i cui esiti sono stati raccolti in questo volume. Certo, la risposta, come dire, al nostro interrogativo forse la lasciamo a chi vorrà leggere, chi vorrà concentrarsi su questi saggi che ovviamente introducono e indagano in modo specifico il tema del rapporto tra la città e i frati. Questo non vuol dire che la città medievale sia solo una città di frati ovviamente ma la presenza che si consolida appunto nel corso del duecento per quel che riguarda i frati mendicanti che sono appunto l'oggetto del nostro volume è sicuramente una presenza molto rilevante, di grande importanza sia proprio come occupazione di spazi fisici e quindi più gli aspetti legati all'architettura e al contesto urbano, sia ovviamente altri aspetti che riguardano più la gestione anche politica della città oltre che ovviamente il tema religioso. Noi abbiamo deciso di scrivere un titolo sotto forma di interrogativo proprio perché, come diceva Silvia, proponiamo di inserirci in un dibattito che ormai dura da diversi decenni sul senso dell'impatto della presenza degli ordini mendicanti sulla città medievale. È evidente che porre un interrogativo di questo tipo e mettere a confronto studiosi che appartengono a diverse discipline con le rispettive domande storiografiche e i rispettivi lessici e problemi ci obbliga contemporaneamente a porci altre due domande. La prima domanda è che cos'è la città e in particolare che cos'è la città medievale, come funzionava, come si evolve soprattutto in un passaggio quello fra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo dove la città tumultuosamente cambia dal punto di vista demografico, sociale, economico, culturale e anche religioso. Dall'altra parte questo interrogativo si proietta anche sulla evoluzione della identità che si danno i singoli ordini mendicanti. La costruzione di conventi pone dei problemi di grande rilevanza alle comunità dei frati, dei problemi che riguardano il finanziamento del cantiere in rapporto appunto con il potere politico che è sempre più importante nel corso dei decenni e quindi questa domanda che noi ci siamo posti è in qualche modo una domanda che si rifrange e si moltiplica in tanti altri interrogativi. È evidente che fare un titolo con un punto interrogativo vuol dire lanciare una sfida, inserirsi in un dibattito in un modo il più scientifico possibile, ma anche lanciare una sfida a tante altre discipline, a tanti altri studiosi di confrontarsi su questo tema. Questa sfida può funzionare se l'approccio è innanzitutto interdisciplinare, cioè se fra le diverse discipline ci si ascolta e se in qualche modo proietta il nostro discorso su una prospettiva che è contemporaneamente, come dire, multiscalare e quindi la città è fatta di tante cose, è fatta di edifici, di spazi urbani, ma anche di rapporti con il territorio e cronologica. Il nostro sguardo comincia nel contesto del XIII-XIV secolo, ma poi chi leggerà il libro vedrà che si proietta fino al XVIII secolo. È interessante anche perché io ho una mia teoria abbastanza, credo, condivisa sulla fortuna che il movimento dei frati incontra proprio nel momento in cui decide di stanziarsi nelle città. fino a quel momento l'ordine religioso più diffuso in Italia era quello dei cistercensi, che però stavano fuori dal tessuto urbano e che quindi si trovano a perdere i grossi cambiamenti che le città incontrano in quel periodo di carattere architettonico, urbanistico, di vita sociale, mentre i frati si collocano proprio all'interno di questo percorso e in qualche modo lo subiscono e lo influenzano. È un rapporto osmotico tra queste due realtà. Non so se voi siete d'accordo, ma questa è un po' così, è molto sintetizzata e ovviamente sarebbe molto più complesso da affrontare, però l'idea è un po' questa. Sì, senza dubbio, nel senso che è sempre più evidente come questo rapporto assuma forme poi molto differenziate, quindi il tentativo da parte degli studiosi è sempre quello di cercare di individuare delle linee che hanno segnato o comunque di ricostituire quelle che potevano essere le prassi se previste, se esistevano, dell'insediamento all'interno della città. Certo che questo porta poi in alcuni casi a una semplificazione rispetto allo studio di queste modalità di insediamento nella città. E devo dire che appunto i saggi del volume e insomma anche in tutti gli incontri e le discussioni e i seminari che abbiamo portato avanti è emerso proprio questo, cioè il fatto che ci sia un panorama veramente eterogeneo nelle forme di insediamento all'interno della città, per cui che prevedono non solo sicuramente l'insediarsi nella fase diciamo costruttiva poi dell'insediamento, perché c'è tutta una fase precedente in cui i frati arrivano in città e si muovono all'interno della città, riusando insediamenti, cappelle preesistenti. Ecco poi nella fase invece in cui si consolida il loro ruolo e quindi nasce una comunità strutturata, la scelta di insediarsi in un contesto urbano è molto varia e assume forme differenziate, per cui non solo forse quella più nota e anche quella più ovvia, cioè di cercare spazi liberi all'interno delle nostre città medievali, che sono sempre città molto stratificate, densamente costruite proprio per rimanere all'interno di un ambito protetto dalle mura. E quindi ecco che quando la comunità dei mendicanti diventa una comunità così rilevante, così importante, la necessità è quella di avere spazi ampi a disposizione per l'edificio principale religioso, per la chiesa ma anche per il convento ovviamente. E quindi ecco che questo rapporto con le mura, con le porte di eccesso alla città è sempre stato un rapporto privilegiato e privilegiato anche negli studi che hanno affrontato questo tema. Mi sembra che nelle ultime ricerche emerga però anche in maniera forse più sistematica o comunque con maggiore attenzione il fatto che anche gli insediamenti importanti invece si avvicinano al centro politico, al centro religioso ecclesiastico della città e quindi andando a dialogare con quei poteri presenti nelle città medievali e consolidate. Questo aspetto sicuramente è ancora più interessante perché porta con sé tutta una serie di scelte e di rapporti non semplici, anche solo proprio fisici, di trovare uno spazio poi per inserirsi. E allora in molti casi la comunità appunto parte da un insediamento preesistente e poi grazie a questo straordinario successo che ha tra la popolazione, quindi questa serie continua di lasciti testamentari ingrandisce le proprietà e quindi anche proprio lo spazio poi per abitare, per costruire nuovi conventi. Quello che risulta dai saggi del nostro volume è proprio questa capacità dei frati di interloquire tanto con il potere politico al più alto grado quanto con la popolazione, con i diversi strati sociali. e questa relazione con diversi interlocutori fa in modo che i frati abbiano bisogno di sempre più spazi, non solo al chiuso ma all'aperto, quindi spazi urbani, in particolare gli spazi per la predicazione. È straordinario quello che succede nella definizione, nella ridefinizione, nella formalizzazione di spazi che fino ad allora erano poco definiti, diciamo periferici appunto a ridosso delle mura o subito fuori le mura con l'impatto che i conventi degli ordini mendicanti determinano su questi spazi ancora indefiniti che vengono progressivamente strutturati per esempio come piazze. Basti pensare a quello che succede per esempio a Padova dove c'è bisogno di un grande spazio per la predicazione di Sant'Antonio. A partire da questa necessità contingente, progressivamente le comunità urbane si approfittano della presenza degli ordini mendicanti per ridefinire intere porzioni di città. non solo piazze ma anche strutture viarie e quindi c'è questa relazione multiscalare appunto fra la definizione degli spazi cultuali della chiesa e quelli residenziali del convento sempre in relazione molto molto permeabile con gli spazi esterni. alcuni dei chiostri di questi grandi complessi multiclaustrali, quelli più a ridosso della città sono accessibili dall'esterno e questa è una grande differenza con l'architettura benedettina e cistercenze in particolare. Sono spazi perfettamente permeabili, si potrebbe dire che sono a metà strada fra lo spazio conventuale e quello urbano. Questo porta peraltro a una variabilità tipologica nell'organizzazione degli spazi sia delle chiese che dei conventi che ha fortemente impattato sulla storia dell'architettura successiva. Come diceva Silvia, nella maggior parte dei casi le comunità degli ordini mendicanti si insediano in edifici già preesistenti e attorno a questi si fanno progressivamente spazio e costruiscono i loro insediamenti. La estrema variabilità di questo fenomeno ha portato allo sviluppo di una storiografia poderosa che attraversa tutti i territori europei, che si sviluppa su una lunghissima cronologia e questo è anche questo territorio della storiografia, quello degli ordini mendicanti, e anche in qualche modo pone un test sulle nostre competenze disciplinari a ragionare sull'architettura e sulla città in uno stesso tipo di paradigma. È un argomento immenso che condensare in una raccolta di saggi forse è uno dei modi per riuscire ad affrontarlo con una visione d'insieme, proprio per le enormi differenze che si porta dietro tutto questo sviluppo. Ed è anche uno sviluppo impetuoso, fra l'altro, perché nel giro di poco più di un secolo, un secolo e mezzo, la grande espansione degli ordini mendicanti, almeno nel nostro paese, poi ho scarsa conoscenza dell'estero per sapere se avviene con la stessa rapidità e capacità diffusiva, però è indiscutibile che muta le città e le città mutano gli ordini mendicanti, quindi è veramente un dato di estremo interesse per vari settori di ricerca, perché da quello religioso a quello architettonico, da quello organizzativo a quello edile, i materiali per le costruzioni, gli scambi, è davvero un argomento molto interessante. Io penso che a questo punto sarebbe utile ricordare il titolo del saggio e gli autori, giusto perché la gente possa decidere di acquistarlo, che è lo scopo con cui facciamo queste videopresentazioni, favorire ovviamente la conoscenza e l'acquisto di questi testi. Il titolo è La città medievale e la città dei frati, a cura di Silvia Beltramo e Gianmario Guidarelli, pubblicato da poco dall'insegna del Giglio, ed è un testo che io mi sento di consigliare veramente a tutti coloro che si vogliono fare un'idea dello sviluppo e della diffusione degli ordini mendicati. Io vi ringrazio tantissimo anche per la sintesi che avete avuto nel presentare questo lavoro e niente, spero di avere future occasioni per collaborare ancora insieme. Grazie ancora. Grazie. Grazie mille. Grazie mille dell'occasione, è importante. Salve, arrivi. Grazie mille.